... Riprende lo spettacolo del trofeo Jack qui al centro sportivo Maracanà con il Milan e il Tottenham che ripartono dal punteggio di 3 a 3 ma maturato nella prima frazione di gara. Fuschillo prova a servire in profondità a Uricchio. Intervento duro fra Uricchio e Nunziata. Rimessa laterale per i rossoneri. Intanto si è ristabilito Nunziata e a Uricchio ha provato il tiro che però si è spento lateralmente. Torna a manovrare il Tottenham con Damiano. Tottenham interamente sbilanciato in avanti. A Uricchio ha provato il no-look ma Fuschillo non si è lasciato sorprendere dall'avanti inglese. Napolitano sul punto di battuta di questa rimessa laterale. Masi ha provato il tiro ma impreciso si è spento in fallo di fondo. Il Milan riparte da Simonelli, Jovino, autore di un ottimo primo tempo. Prova a servire in profondità a Russo, c'era sul destro. La girata a rete è abbastanza timida, si spegne in fallo di fondo. Sì Giando non ci è andato convinto qui Russo. Giorgio un secondo tempo che sembra iniziato senza tatticismi ma con tanto gioco spettacolare. Che te ne pare? Sì entrambe le squadre vogliono vincerla questa sfida. Entrambe le squadre hanno tutte le carte in regola per portarsi a casa la vittoria. Staremo a vedere, staremo a vedere. Intanto torna a manovrare il Tottenham dal cerchio di centrocampo. Damiano impatta Simonelli che dà in profondità ad Auricchio. Che manca di pochissimo la segnatura del vantaggio. Calcio d'angolo per il Milan. E Auricchio becca direttamente il palo. Palla che torna al Tottenham. Manovra palla al piede Damiano. Serve Napolitano. Libera con un ottimo tacco. Ma Simonelli recupera la sfera. Tre contro due. Russo per Auricchio. Una finta. È la palla che si spegne in... Un fallo di fondo. Impreciso. Un po' sprecone Auricchio in questo caso. Sì aggiungerei anche sfortunato. Ha fatto tutto bene. Lì doveva solamente metterla dentro. Non ci è riuscito. Tanto Caporaso. Forte di un lungo rilancio. Prova a servire Damiano. Nunziata che è in panchina. Stoppa la sfera. Fallo laterale. Simonelli. Di Carluccio. Damiano lascia Simonelli sul posto. Non c'è nessuno. È costretto a tirare. La sua conclusione si spegne al lato. Simonelli serve in profondità a Russo ma Di Carluccio fa buona guardia. Pensa al tiro. Serve Damiano in profondità. E arriva il vantaggio in rimonta del Tottenham che passa al 4-3 con Damiano. Sì Damiano ha completamente cambiato registro Giando qui in suo ottimo passaggio del solito Di Carluccio è riuscito ad imbeccare tutto solo nella completa tranquillità. Di Carluccio che non è partito titolare ma dal suo ingresso sul rettangolo di gioco si è dimostrato inamovibile e ha guidato i suoi a un'isperata rimonta. Sì Giando ha dato sicuramente la marcia in più al Tottenham. Auricchio sul punto di battuta di questo fallo laterale adesso il Milan è costretto a recuperare Cutolo tenta il tiro dalla lunga distanza ma Napolitano fa buona guardia si sostituisce al portiere Fuschillo qui prova a rinviare Beccasimo Beccamasi scusate per poco non ci scappa la rete. Jovino prova un improbabile Scavino per servire un compagno di squadra Damiano si complica la vita servendo in modo spettacolare ma molto impreciso il compagno di squadra Di Carluccio. Intanto Caporaso Di Carluccio manovra palla al piede Damiano si propone Napolitano resta sul posto in questo caso Jovino si libera ottimamente della sfera serve Cutolo russo e Di Carluccio sette polmoni un cuore grande così e va a pressare su ogni palla russo manovra a ridosso del cerchio di centrocampo serve Jovino Fuschillo Cutolo ce l'ha sul destro serve Auricchio che impatta Damiano Fuschillo gestisce palla col destro di Carluccio batte la rimessa laterale Damiano ce l'ha sul destro pensa al tiro lo prova palla al lato intanto torna a manovrare il Milan Auricchio ce l'ha sul destro il tiro ed arriva inaspettata la segnatura del numero due Auricchio che toglie le castagne dal fuoco e ristabilisce il pareggio Milan 4 Tottenham 4 un fulmine a ciel sereno questa rete si Giando devo essere sincero qui il bomber è stato anche un po' fortunato causa l'intervento non positivo di Caporaso tra i pali ristabilita la parità Caporaso che si è saputo distinguere per delle ottime parate ma anche per delle grandi disattenzioni che stanno penalizzando la sua formazione intanto il Tottenham torna a manovrare in questo caso Napolitano la spara addossa da Auricchio e guadagna una rimessa laterale Masi si incarica della battuta di Carluccio cade a terra fase di gioco abbastanza confusa c'è un fallo il fischio arbitrale penalizza i rossoneri con una punizione in seconda perché Auricchio ha giocato da terra la sfera non si può Damiano sul punto di battuta il tiro di Damiano pericoloso ma impreciso Auricchio palla al piede Simonelli ancora Auricchio Jovino prova a servire Cutolo che ce l'ha sul destro lascia sul posto Masi ma si incarta palla al piede si sviluppa una rimessa laterale di Carluccio torna dalle parti di Caporaso per gestire la sfera prova l'imbeccata lunga per Masi Cutolo impatta la sfera Jovino passaggio provvidenziale per il possesso rossonero Simonelli tenta il tiro becca un palo ma è il montante della struttura molto molto impreciso Napolitano la spara addosso Jovino guadagna una rimessa laterale ancora Napolitano sul punto di battuta prova a servirla lunga per Di Carluccio ostacolato da Simonelli e Fuschillo torna a manovrare palla al piede il break di Masi Damiano prova l'imbeccata arriva il tiro di Napolitano è quasi un tiro al bersaglio e anche Di Carluccio prova a dire la sua ma è impreciso Simonelli Cutolo riesta laterale per il Tottenham Masi palla al piede Damiano serve Napolitano il gran tiro e la gran risposta di Fuschillo che alza in calcio d'angolo Di Carluccio dal punto di battuta prova direttamente ad impensierire il portiere c'è il tocco di Masi la traversa il break offensivo da parte dei russoneri Damiano che contrasta Simonelli Napolitano torna a manovrare palla al piede Damiano il destro la parata di Fuschillo che alla garella si disimpegna di piede Napolitano Di Carluccio circunnaviga il fronte offensivo e il suo tiro viene impattato da Jovino calcio d'angolo ancora il resto di Di Carluccio per Damiano che ha un controllo infelice Auricchio palla al piede torna a manovrare sul cerchio di centrocampo un 3 contro 2 la dà in velocità Jovino ma non arriva sulla sfera anche in questo caso pochi tatticismi c'è la volontà e l'attitudine offensiva da parte di entrambe le formazioni che potrebbe segnare il prossimo Giorgio guarda Giando vedo Damiano veramente on fire prima è stato provvidenziale in un contropiede del Milan 2 contro 1 lui era l'unico baluardo difensivo del Tottenham ed è stato bravissimo a decettare il passaggio adesso forse è un po' calato però vedo in questo momento lui come il migliore del Tottenham intanto Auricchio continua a danzare palla al piede guadagna un fallo commesso da Di Carluccio Auricchio sul punto di battuta Jovino ad impensierire il portiere avversario Caporaso la battuta di Auricchio c'entra in pieno la barriera Cutolo palla al piede Simonelli prova di simpegnarsi in a 2 addosso serve Jovino il tacco clamoroso per Auricchio ma Damiano Damiano si rende autore di un retropassaggio punito da parte dell'arbitro per il tocco di mano di Caporaso e ancora un grandissimo gesto di sportività da parte di Auricchio si è fantastico Auricchio è stato secondo me il migliore in campo in tutto anche se forse non si è non si è assicurato le grazie dei suoi compagni dato il risultato di pareggio però da imitare in tutto sono proprio gesti del genere in questi momenti di una partita diventare lo spot migliore per uno sport si assolutamente Gianno sono d'accordo come lo futsal come il grande spettacolo del trofeo Jack Milan torna a manovrare Simonelli guadagna una rimessa laterale Jovino Auricchio ha la possibilità di tirare prova a servire Jovino tocco dubbio di Masi riparte il Tottenham Simonelli spara addosso Damiano di Carruccio tu per tu col portiere tenta lo scavino ma Fuschillo è bravissimo nel non cadere nella trappola resta in piedi e smanaccia si ma che errore difensivo è Giando qui in difesa intanto Simonelli prova a giostrare offensivamente prova a liberare un tacco Damiano Nunziata body check fra Nunziata e Simonelli tra due pesi massimi qui Giando Damiano tenta il tiro una sberla alla sfera alto Simonelli parte palla al piede Simonelli con il numero 10 prova a gestrare rimessa per il Tottenham anzi no per il Milan Auricchio prova il tiro delizioso di punta ma non inquadra la sfera Caporaso palla al piede per Nunziata in profondità per Damiano giostra col destro serve ottimamente Di Carluccio che prova a segnare di tacco non c'entra la porta il break di Nunziata Simonelli recuperato da Damiano Di Carluccio libera a favore di Caporaso Nunziata in profondità per Di Carluccio ma io viene attento pallone illuminante per Auricchio sul sinistro e arriva il gol del vantaggio rosso nero Milan 5 Tottenham 4 e anche in questo caso Auricchio ha fatto quello che voleva davanti alla porta Giando è un giocatore con tantissima esperienza Auricchio ma nell'occasione credo che il gol sia un autogol perché il tocco decisivo è stato dello sfortunatissimo Giuseppe Nunziata solo il replay potrà chiarire questo gol autogol ma molto probabilmente verrà rifertato il gol e quindi la segnatura per Auricchio da parte del giudice di gara rimessa laterale intanto per il Tottenham contrasto duro fra Jovino e Di Carluccio intanto Masi si libera sulla fascia non riesce a concretizzare il possesso palla che torna ai rossoneri in questi frangenti del secondo tempo Jovino prova a darla lunga per Auricchio ma è abbastanza impreciso il suo passaggio si spegne in un fallo laterale torna a manovrare il Tottenham con l'ennesima palla lunga Damiano ha uno stop felice prova a liberare il destro viene raddoppiato Masi sale sulla fascia prova a servire Di Carluccio e il Tottenham guadagna un calcio d'angolo Di Carluccio sul punto di battuta Jovino impatta la sfera ancora Di Carluccio ancora Calcio d'angolo lungo impreciso e arrivano i cambi da parte del mister rossonero esce Jovino entra Cutolo maggiore freschezza atletica per questi ultimi frangenti Auricchio torna a manovrare palla al piede Simonelli serve Fuschillo ancora Auricchio buon palleggio dei rossoneri esce Masi viene lasciato sul posto da Auricchio raddoppiato palla per Simonelli che di destro non ha un tiro felicissimo e Caporaso riesce a parare Simonelli ancora ne ha due in aria si lascia impattare la sfera da Damiano calcio d'angolo ancora per i rossoneri Simonelli identica soluzione del calcio d'angolo precedente ancora Simonelli sul punto di battuta si sviluppa il terzo calcio d'angolo consecutivo anzi adesso non c'è ancora un calcio d'angolo ma riparte l'azione dal portiere del Tottenham Caporaso Masi Damiano chiama la profondità Masi nunziata lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossonera prova il tiro e si allunga bene Fuschillo calcio d'angolo di Carluccio viene impattato da Auricchio riparte Simonelli che preferisce temporeggiare invece che anzi no parte il contropiede prova il passaggio centrale per Cutolo ma c'è poca precisione dovuta anche alla fretta dello scaricare la sfera e riparte da Caporaso l'azione del Tottenham adesso di Carluccio che torna a manovrare Damiano si libera bene di Auricchio Cutolo Cutolo a bloccare l'avanzata di Damiano rimessa dal fondo Massimo Russo ottimamente imbeccato da Auricchio non ha un controllo felice Nunziata lascia lo stesso Russo sul posto di Carluccio ne lascia un paio per strada prova a liberare il sinistro contesta un calcio d'angolo ma Fuschillo tocchi proibiti fra Cutolo e Damiano Auricchio guadagna un fallo intanto in barriera di Carluccio enunziata Auricchio sul punto di battuta il suggerimento per Simonelli che tenta il tiro poca convinzione da parte del pivot difensivo rosso-nero Caporaso palla al piede prova a servire Damiano si scontra con Cutolo che riesce a recuperare la sfera Fuschillo non ci pensa due volte spazza rimessa laterale per il Tottenham gara che diventa più concitata in questo finale molto agonismo se le promettono alcuni calciatori manca la lucidità con la stanchezza il tiro di Damiano calcio d'angolo terrificante il destro di Damiano che ha provato dalla lunga distanza a sorprendere Fuschillo e si sviluppa un altro calcio d'angolo di Carluccio un passaggio molto velenoso Auricchio si erge a baluardo difensivo di Carluccio rimessa laterale tutto il Tottenham in proiezione offensiva Damiano cicca clamorosamente il tiro e Fuschillo si becca una munizione per aver allontanato la sfera provata a temporeggiare rimessa laterale nunziata scarica per Masi stretta a manovrare lateralmente calcio d'angolo ancora Masi sul punto di battuta di Carluccio prova la deviazione vincente Auricchio spazza la bene meglio c'è molta confusione anche molta imprecisione Giorgio si dicendo le due squadre oramai visti i minuti finali ci provano il Milan a tenersi caro il risultato ma attenzione qui Damiano vicino alla rete dicevo il Milan a tenersi stretto il risultato di parziale vittoria il Tottenham che ci prova in tutte le maniere a pareggiare la sfida come anche in questo caso c'è un vero e proprio assalto alla Bastiglia con tutti i rossoneri rintanati a difendere il proprio vantaggio proteste arbitrali da parte del Tottenham torna a manovrare il Milan Fuschillo Auricchio Iovino Auricchio giro palla pallone in profondità per Russo che tutto sommato è solitario lì in avanti e non può fare molto Tottenham ancora a manovrare Masi in profondità per Di Carluccio che viene mandato fuori i giri da Auricchio rimessa laterale per i rossoneri provano a darla lunga Russo gestisce la sfera Giostra in mezzo a due avversari all'arrivo di Di Carluccio perde il possesso Cutolo la strappa dai piedi di Di Carluccio Russo ancora prova il destro si spegne un fallo di fondo e si dispera contro le imbottiture del centro sportivo Maracanà Masi palla al piede c'era sul destro prova a suggerirla per Nunziata lo scavino a favore di Di Carluccio l'uscita dura di Auricchio che si fa sentire sulle caviglie di Di Carluccio Stottenham può usufruire di un di un fallo di un calcio piazzata abbastanza importante in questi frangenti di gara Di Carluccio sul punto di battuta Auricchio e Simonelli in barriera con Masi in disturbo e Jovini in marcatura Fuschillo fra i pali pronto a parare il tiro di Di Carluccio terrificante la punizione Fuschillo ancora sugli scudi smanaccia in calcio d'angolo Napolitano è impreciso al massimo in questo calcio siamo agli sgoccioli della sfida fra Milan e Tottenham probabilmente questo è l'ultimo possesso per i rossoneri Cutolo palla al piede fa girare la sfera Jovino lascia sul posto di Carluccio prova a partire in in proiezione offensiva Nunziata rimessa laterale di Carluccio ancora Auricchio palla al piede si becca con con Auricchio Nunziata ed arriva la punizione per i rossoneri Calcio piazzato per il Milan Auricchio Cutolo il tiro si spegne in un fallo di fondo e su questa sfortunata conclusione a rete si spegne la gara fra non poche polemiche punteggio finale Milan 5 Tottenham 4 un primo tempo spettacolare una ripresa molto molto contratta no Giorgio si Giando hai fatto una perfetta una perfetta chiosa della partita così è andata un primo tempo ricco di belle azioni capovolcimenti da una parte dall'altra nel secondo tempo le squadre anche un po' per stanchezza fisica non hanno regalato lo spettacolo del primo tempo con una conclusione un po' polemica da ambo le parti mentre le squadre si avvenono verso gli spogliatoi dopo dei cerimenti di rito con l'arbitro noi andiamo ad ascoltare le interviste post partita siamo qui siamo qui con Auricchio e Jovino al termine della partita vinta contro il Tottenham con il punteggio di 5 a 4 non commetto su questa gara che è stata abbastanza spigolosa sono stati molto più preparati dal punto di vista atletico però alla fine la nostra esperienza ha avuto la meglio esperienza e tanto fulgore anche nella fase difensiva come abbiamo qui Jovino ad esempio che ha giocato un'ottima partita un commento da parte tua su questa gara giocare contro questi ragazzi giovani è difficile è veramente dura corrono però ce la caviamo ci difendiamo in conclusione i giovani corrono ma i vecchi segnano e vincono bravissimo bravissimo sarà sempre così ragazzi sempre così con un difensore di queste dimensioni dietro siamo tranquilli dimensioni come grandezza non come bravura ovviamente abbiamo con noi il capitano del Tottenham Napolitano la prima domanda Napolitano dopo questa bella prestazione contro il Milan ancora il tabellino del punteggio è ancora fermo a zero purtroppo non è la prima prestazione positiva però i punti tardano ad arrivare penso che giocando sempre così magari in futuro raggiungeremo obiettivi che però non ci porteranno in alto però puntiamo l'Europa League magari obiettivi minori quindi parlando di obiettivi il vostro obiettivo principale è l'Europa League sì anche perché le prime cinque partite non sempre abbiamo raggiunto il minimo dei giocatori appunto che c'eravamo prefissati e quindi ci sono stati vari problemi nelle prime giornate da notare le due compagini c'era nell'edizione scorsa del Jack alcuni membri del Milan e alcuni membri della tua squadra facevano parte di un'unica squadra come hai sentito le impressioni dopo questa partita un po' particolare? c'è stata una scissione perché era ancora un'altra squadra il trofeo precedente e no vabbè siamo amici vediamo molti giorni con gli altri ragazzi quindi è stata diciamo una partita in famiglia quindi un'ultima domanda un po' di polemiche a fine gara da cose sono perché sono nate? forse dai risultati che non arrivano e dalla troppa fisicità di alcuni dei nostri giocatori